Il segreto Il segreto, Hernando minacciato e costretto al silenzio Anche questa settimana, il nostro appuntamento con Il segreto, la sop iberica ideata e scritta da Aurora Guerra, andrà in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Dalle ore 16 e 30 alle ore 17 e 10 circa, ad eccezione di martedì 1 maggio 2018, in cui si prenderà una breve pausa, ma non mancherà il doppio appuntamento. . Con la puntata serale di venerdì 4 maggio. . Così nelle precedenti puntate, Beatrice non riesce a darsi pace per aver perso l'amore della sua vita, Mattias. E si lascia prendere dalle belle parole di Aquilino, e il loro atteggiamento diventa causa di pettegolezzi in paese. . Francesca viene a sapere grazie alla soffiata di Nazaria, che il suo fidato capomastro continua a sentirsi con fe, nonostante il suo divieto. . Giulietta cerca l'aiuto di Carmelo e Severo per vendicarsi della Montenegro. Dolores riceve i documenti di divorzio da parte del marito Pedro, che dice di essersi innamorato di una lettone, ma lei non vuole credere a una cosa del genere, e pensa che sia solo uno scherzo. . Cosa succederà nelle puntate dal 30 aprile al 04 maggio 2018?. Lunedì 30 aprile 2018, in famiglia Dos Casas scoppia una lite, non presa bene da Beatrice, che si allontana prontamente andando a rifugiarsi da Aquilino. . Da questa reazione i genitori capiscono che in questo modo non otterranno nulla e quindi cercheranno il modo di parlarle e avere un chiarimento. . Mercoledì 02 maggio 2018, la Montenegro dà il permesso a Prudencio di fari in modo che Giulietta non venga più vista di buon occhio dai poveri del paese. . E per questo pensa ad un piano che possa screditarla davanti a tutti. . Ippolito e Onesimo sono sempre più impegnati nel loro nuovo obiettivo, la produzione di vino. . Giovedì 03 maggio 2018, Mauricio scopre che i poveri del paese stanno rubando la frutta dai terreni della sua signora, per questo li aggredisce, ma loro gli si rivoltano contro. . A questo punto, va tutto secondo i piani di Prudencio e Francisca, poiché Giulietta, vedendo che stavano per linciarlo va in suo soccorso. . Questo gesto sarà interpretato come un volta faccia da parte del popolo che adesso pensa che Giulietta stia dalla parte della Montenegro. . . Venerdì 04 maggio 2018, Beatriz decide di partire per Madrid , ma Aquilino si oppone. . 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